Ritorniamo sugli ospiti delle trasmissioni televisive, senza i quali le reti nazionali non sono più in grado di concepire una scaletta di un programma televisivo decente. Gli ospiti li avevamo definiti eruditi perché sanno un po' di tutto, sono in grado di parlare per ore e non danno problemi agli editori. La loro scelta, fatta col bilancino, riesce a portare il discorso che preme all'editore o a chi sta alle sue spalle in modo ordinato fino alla fine, convincendo gli ascoltatori della veridicità di ciò che la trasmissione sta affermando. Quando però c'è un conduttore di trasmissione che, sal fatto suo, sia documentato e competente di una determinata materia, è il caso della gabbia condotta da Gianluigi Paragone, l'editore, che nel caso specifico l'editore Cairo, ci era stato presentato da Maurizio Crozza come un illuminato, un progressista, ecco che non trova di meglio che chiudere la trasmissione. Motivo? Ma probabilmente Paragone avrà invitato qualche persona che pur dicendo la verità era indigesta allo stesso Cairo. Esiste l'autorità garante per le comunicazioni nel nostro paese, insieme a tante altre autorità che costano tantissimo allo Stato, non producono nulla o quasi nulla confusione, la producono, è già un titolo di merito, producono confusione che devono essere assolutamente soppresse. Altrimenti le regole tutt'oggi vigenti permetterebbero di entrare, di sindacare l'operato delle redazioni e dei conduttori di programmi, nonché degli editori, per assicurare una parità di trattamento alle voci. Ma le autorità, una per l'altra, che hanno sostituito in modo pessimo i ministeri, devono essere soppresse senza indugio. Un personaggio che si è affermato come è qualcosa di più di un erudito, è un esperto spesso, è Paolo Mieli, è un po' l'ospite tipo. Sappiamo tutti come ha cominciato la sua carriera prima che giornalistica e politica. Militava Mieli in potere operaio e in seguito in lotta continua. Poi si è accorto che stare da quella parte era piuttosto scomodo e è passato dall'altra. Oggi, anche se non li cerca in modo particolare, come si muove, gli piove una cascata di soldi addosso. Ha sistemato i suoi figli, in particolare Lorenzo, che è amministratore delegato di una casa di produzione cinematografica inglese, britannica. Ora, in tante trasmissioni televisive, da Mieli non abbiamo mai sentito un moto di indignazione. Per esempio, in questo periodo che la Russia viene attaccata per le più grossolane malvagità, mette in guardia gli ascoltatori che dica a loro, pensate, che tutto ciò che viene scritto a carico della Russia, non è provato, non esiste uno straccetto di prova. Domando a voi, ma questo deve essere ancora considerato uno stato di diritto?